E' stata presentata stamattina in municipio Pordenone la giunta comunale di nuova formazione per il secondo mandato del sindaco Alessandro Ciriani. Con importanti riconferme, cambi di deleghe e alcune new entry, la squadra del sindaco ha firmato sabato di fronte al segretario comunale e si è presentata oggi alla stampa. La parola d'ordine per i prossimi cinque anni di lavoro è stata collaborazione. Abbiamo presentato la nuova giunta a cui ho chiesto di non lavorare a compartimenti stagni ma di essere una vera e propria squadra, una cabina di regia per mettere a frutto i milioni di euro che abbiamo in cassa e i progetti che abbiamo congelato solo per la campagna elettorale. Questa non è un'amministrazione nuova, è un'amministrazione di continuità. Quindi la vera sfida è quella di poter riuscire immediatamente a rendere operativi quelle che sono state promesse, che non sono promesse elettorali ma sono un grande disegno di rilancio, di riqualificazione complessiva di Pordenone e del centro alle periferie. E' evidente che quando parliamo per esempio della riqualificazione complessiva di Largo Cervignano non si parla solamente di edilizia ma si parla di viabilità, si parla di sociale, si parla di verde, si parla di acqua, si parla di fognatura. Conseguentemente il sindaco sarà il regista di una squadra che non ragionerà più ad individualità ma dovrà ragionare come un grande collettivo. Già oggi i primi impegni amministrativi con l'inserimento dell'esecutivo a pieno regime negli uffici del comune. Sono sempre otto gli assessorati equamente assegnati a uomini e donne pronti da subito a mettersi al lavoro. E' una squadra al 50% nuova che ha inserito nuove competenze e nuove professionalità che saranno fondamentali per supportare e accompagnare gli uffici nella realizzazione di questo grande disegno. E dall'altro lato al 50% di donne onorando anche un principio in cui le donne portano un valore aggiunto all'interno di quelle che sono le compagini politiche e amministrative di Pordenone.